Grazie. Il canto 29 del Paradiso, come il nostro solito tutto di seguito, poi riprendiamo a spiegare. È durante la pausa di cinque minuti che faremo più o meno a metà del canto. Vi prego di inviarmi se ne avete i vostri dubbi. Quando ambedue i figli di Latona, coperti del montone della Libra, fanno dell'orizzonte insieme zona, quant'è dal punto che il cenit in Libra, infenché l'uno all'altro da quel cinto, cambiando l'emisferio, si di Libra, tanto col volto di riso dipinto, si tacque Beatrice riguardando Fiso nel punto che m'avea vinto. Poi cominciò. Gironimo vi scrisse lungo tratto di secoli degli angeli creati, anziché l'altro mondo fosse fatto. Ma questo vero è scritto in molti lati dagli scrittori dello Spirito Santo. E tu te ne avredrai, sebbene agguati. È anche la ragione il vede alquanto, che non concederebbe che i motori, senza sua perfezione, fossero cotanto. Or sai tu dove, quando questi amori furon creati e come, si che spenti nel tuo odisio, già son tre ardori. Ne giugnerie, si numerando al venti, si tosto come degli angeli parte, turbò il soggetto di vostri alimenti. L'altra rimase e cominciò quest'arte che tu discerni, con tanto diletto, che mai da circuir non si diparte. Principio del cadere fu il maledetto, superbir di colui che tu vedesti, da tutti i pesi del mondo costretto. Quelli che vedi qui furon modesti a riconoscer sé dalla bontate che li avea fatti a tanto intender presti, perché le viste loro, furo e saltate, con grazia illuminante e con l'ormerto, si che hanno ferma e piena volontate. E non voglio che dubbi, ma si è certo, che ricever la grazia è meritorio secondo che l'affetto le è aperto. O mai d'intorno a questo consistorio puoi contemplare assai se le parole mie son ripolte, senz'altro aiutorio? Ma perché in terra, per le vostre scuole, si legge che l'angelica natura è tal che intende e si ricorda e vuole, ancora dirò perché tu veggi pura la verità che laggiù si confonde, equivocando in si fatta lettura. Queste sostanze, poiché furgioconde della faccia di Dio, non vuol serviso da essa da cui nulla si nasconde, però non hanno vedere interciso da nuovo obietto e però non bisogna rememorar per concetto diviso, sì che laggiù non dormendo si sogna, credendo e non credendo di cervero, ma nell'uno è più colpa, è più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero filosofando, tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza e il suo pensiero. E ancora questo quassù si comporta con men di sdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace, chi umilmente con essa s'accosta. Per apparere ciascuno si ingegna e face sue invenzioni e quelle sono trascorse dai predicanti e il Vangelo si tace. Un dice che la luna si ritorse nella passione di Cristo e si interpose perché il lume del sol giù non si porse, e mente che la luce si nascose da sé, però agli Spani e agli Indi, come ai Giudei, dall'eclissi rispose. Non ha fiorenza tanti lappi e bindi, quante si fatte favole per anno e in Pergamo si gridano quinci e quindi. Non sanno, tornano del Pasco pasciute di vento e non le scusa non vederlo danno. Non disse Cristo al suo primo convento, andate e predicate al mondo ciance, ma di elle l'ur ferace fondamento. E quel tanto sonò nelle sue guance, si chiapugnare per accendere la fede dell'Evangelio feroscudo e lance. Ora si va con motti e con i scede a predicare, purché ben si rida, gonfia il cappuccio e più non si richiede. Ma tale uccelle nel vecchetto s'annida, che se il vulgo il vedesse, vedrebbe la perdonanza di quel si confida, per cui tanta stoltezza in terra crebbe, che senza prova d'alcun testimonio, ad ogni promessione si correrebbe. Di questo ingrasse il porco Sant'Antonio e altri assai, che sono ancora più forci, pagando di moneta san saconio. Ma perché siamo digressi assai, ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada, sì che la via col tempo si raccorci. Questa natura si oltre e si ingrada in numero che mai non fulo quella né concetto mortal che tanto vada. E se tu guardi quel che si rivela per Daniel, vedrai che in sue migliaia determinato numero si cela. La prima luce che tutta la raia, per tanti modi in essa si recepe, quanti sono gli splendori a chi s'appaglia. Onde però che all'atto che concepe segue l'affetto, d'amar la dolcezza diversamente in essa ferre e pepe. Vedi le ciel su mai e la larghezza dell'eterno valor, poscia che tanti speculi fatti sai che si spezza, uno manendo in sé come davanti. Allora, non so se ricordate che nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, Dante ha avuto la sua prima visione diretta di Dio e gli si è presentato, Dante e Beatrice ricordiamo, sono nel nono cielo o cristallino o primo mobile, quello in cui hanno origine il tempo e lo spazio e quindi anche il movimento che da quel cielo velocissimo si imprime nei cieli, diciamo, più bassi, verso la terra. E Dante vede, non si sa come dicevamo, se dentro di sé o nell'empiere o attraverso questo, diciamo, bordo trasparente del nono cielo, un punto infimo, minimissimo e luminosissimo che paradossalmente avvolge l'intera creazione e attorno a questo punto luminosissimo vede come girano con velocità sempre decrescente, man mano che si allontanano dal centro, i cerchi delle diverse gerarchie angeliche su cui Beatrice ha illustrato Dante pochissimi minuti fa. Quindi il canto questo 29 si apre con una brevissima pausa che fa Beatrice, un silenzio che fa prima di riprendere il discorso sugli angeli e per spiegare a noi quanto tempo stette Beatrice in silenzio Dante ci dà un'immagine astronomica con la quale appunto si apre il canto. Quindi leggiamo Quando ambedue i figli di Latona coperti del montone e della libra fanno dell'orizzonte insieme a Latona, allora quando i due figli di Latona, cioè Diana, la luna e Apollo, il sole, opposti, coprendosi dal montone e dalla bilancia, che chiaramente sono opposti a quelli dove sono, dove è il sole nella primavera, fanno insieme una stessa zona d'orizzonte, cioè li vediamo con mezzo disco ognuno uscire dall'orizzonte uno di fronte all'altro, si suppone, però non sono tutti d'accordo perché Dante in realtà non lo chiarisce, che il sole stia nascendo e la luna ponendosi, ma potrebbe anche essere il contrario, perché quello che Dante vuole dire, come appunto dirà ora, è che il tempo che trascorre, tra quando vediamo questi due mezzi dischi, la luna e il sole nell'orizzonte, il tempo che fanno per uscire, cioè nascondersi l'uno e l'altro apparire, che è meno di un minuto, quel tempo stette in silenzio Beatrice, quindi lo dice, fanno dell'orizzonte insieme zona, quant'è dal punto che il cenit in libra, infinché l'uno e l'altro da quel cinto, cambiando le misteriosi di libra, cioè il tempo che passa da quando sono come due dischi in una libra, in una bilancia e quindi sono illibrati, il tempo che passa finché uno di loro si di libra cambiando emisferio, tanto il tanto del verso settimo è da collegare con il quando del primo verso, c'è la stessa quantità di tempo che passa tra questo equilibrio e la scomparsa di uno dei dischi e la crescita dell'altro, tanto tempo Beatrice tacque, cioè col volto di riso dipinto, cioè sorridente, tacque Beatrice riguardando Fiso nel punto che mi avea vinto, cioè guardando Fiso in Dio quel punto luminosissimo che Dante dice aveva vinto la mia capacità visiva, vi ricordate che Dante aveva dovuto abbassare lo sguardo perché quel punto che è Dio lo abbagliava. Vedo che ci sono qui dei messaggi, ah c'è un qualche problema di suono? Ora mi sentite bene? Sì, sì. Bene, grazie. Allora Beatrice ha fatto una pausa di meno di un minuto durante la quale ha guardato Dio, chiaramente, e nel verso decimo comincia a rispondere a tutte le domande che ha Dante sugli angeli che però lei legge in Dio, quindi Dante non deve pronunciare e noi dovremo man mano che leggiamo le risposte che ne dà lei, dedurle e quindi faremo questo esercizio di pensare che cosa avrà domandato Dante affinché lei rispondesse quello che va rispondendo. Allora il verso 10, poi comincia, io dico e non dimando quel che tu voglio dire, perché io l'ho visto, l'aves appunta ogni ubi e ogni quando. Cioè dico senza domandarti quello che tu vuoi udire, perché, cioè non te lo domando, perché l'ho visto lì dove ogni ubi, cioè ogni spazio e ogni quando, cioè ogni tempo, s'appuntano, cioè diventano un punto che è precisamente come Dante appena ha visto Dio. Cioè questa definizione di Dio, che è dove appunto i salvati vedono tutta la realtà, compresi i sentimenti e i pensieri del pellegrino, è significativa perché ricordiamo siamo nel cielo dove questi ubi e questi quando iniziano e quindi il punto che è al di sopra di questo è quello che, come aveva detto, vi ricordate Cacciaguida, tutti i tempi sono presenti, quel punto dove si vede simultaneamente, immediatamente, passato, presente e futuro. E comincia quindi a dire, al verso 13, Beatrice, non per avere a sé di bene acquisto, che esser non può, ma perché suo splendore potesse risplendendo dir subsisto, in sua eternità di tempo fuori, fuori da ogni altro comprendere, come i piacque, sapersi nuovi amori, l'eterno amore. Cioè qui Beatrice spiega perché Dio creò gli angeli. E quindi è probabile che Dante abbia chiesto proprio questo e forse aveva una sua ipotesi che lei comincia col negare. Forse la domanda precisa di Dante sia stata, ma Dio, che in sé stesso è onnipotente, onnisciente e solo gode di sé stesso? Che bisogno aveva di creare gli angeli? E infatti la risposta di Beatrice inizia con la negazione, non per acquistare più bene per sé stesso, il che è impossibile, perché in Dio il bene è infinito, ma a un splendore risplendendo potesse prendere consapevolezza della propria sossistenza, cioè affinché i raggi che irradia la luce divina potesse avere coscienza del proprio essere, in sua eternità fuori dal tempo, fuori da ogni altra comprensione, come piacque a Dio, che viene detto come ultima parte della frase, s'ha persi in nuovi amori, l'eterno amore, cioè Dio, l'amore eterno, si aprì in nuovi amori, cioè gli angeli. Bellissimo quest'ultimo verso, no? In cui la creazione appare come apertura, impossibile da concepire, chiaramente, del punto, dell'amore eterno negli amori che sono appunto gli angeli, cioè non perché lui, diciamo, guadagnasse un qualche bene, il che è impossibile, ma per generosità, per dare indipendente consapevolezza del proprio essere agli angeli, cioè alla sua irradiazione, Dio creò, insomma, gli angeli. Quindi un po' come mi piace quando leggo questo canto fare analogia con gli esseri umani, perché credo che il canto consenta questa cosa più avanti in modo più esplicito, ma questo, diciamo, mi fa allargarmi e pensare, insomma, a una coppia innamorata che non per amarsi di più, perché questo è impossibile, ma quasi per eccesso d'amore decide di fare figli, no? Senza modificare l'amore che c'è prima, ma moltiplicandosi in amori prima inimmaginabili, vero? Ed è un'analogia che, sebbene, diciamo, non sia presente puntualmente nel testo, credo sia legittima sulla base del, diciamo, dell'immagine tradizionale di Dio come padre e dalle tante immagini di paternità e maternità che sono in questi ultimi canti del paradiso. Allora, evidentemente Dante sta domandando un'altra cosa che Beatrice legge in Dio e vediamo che cosa può essere. Verso 19 Allora, e non si può dire che Dio, prima della creazione, fosse intorpidito, diciamo, a girarsi pollici, come direbbero gli italiani, cioè senza fare niente. Perché non si può dire questo? Perché né prima né poi esistevano come serialità temporale prima che Dio si prodigasse sopra queste acque. Queste acque equivale qua a questo nono cielo cristallino che era l'interpretazione del passo del Genesi su quella creazione delle acque, sul firmamento. E quindi, siccome io, appunto, perciò vi ho ricordato prima che in questo cielo cristallino nascono lo spazio e il tempo, Beatrice sta dicendo che prima della creazione Dio fosse inattivo, stesse, diciamo, a riposare, perché in realtà prima della creazione che comprende appunto questo cielo dove nasce il tempo, non c'erano prima e poi, non c'era, diciamo, linearità temporale. È una cosa, chiaramente, per noi che ragioniamo con i nostri limiti umani, difficili da concepire, no? Perché ogni atto cui pensiamo, per esempio, anche la creazione, la pensiamo necessariamente in una serie temporale per cui siamo spinti naturalmente a immaginare un prima. Ma Beatrice sta chiarendo che questo prima non esisteva perché il tempo nacque insieme a questo cielo e quindi non c'è un prima la creazione perché Dio è eternità e il tempo nasce fuori da Dio nell'universo creato, va bene? Questo è un canto, come vedremo, dove si enfatizza più volte l'umiltà che ci vuole per capire certe cose e come alcuni, soprattutto professori universitari, come vedremo più avanti, sbagliano pur di non accettare umilmente quel che dicono le scritture. È una cosa che non so se avete colto durante la prima lettura, ma che ora rivedremo. Qualcuna domanda, il tempo è creato anche da Dio? Sì, certo, il tempo è creato in dipendenza dai cieli. Tempo e spazio sono i due grandi parametri della creazione di Dio. Va bene? Solo che, come ora vedremo, gli angeli, che è quello di cui parla soprattutto Beatrice, sono creati sempiterni. Invece, noi umani, chiaramente, sempiterni solo per quel che riguarda l'anima creata direttamente da Dio, temporali, destinati a perire i nostri corpi che sono generati dalla natura, quindi non creati direttamente, e perciò imperfetti, ma destinati anche alla resurrezione, i corpi gloriosi che riprendono il corpo che ebbero Eva e Adamo, che erano stati creati anche loro direttamente da Dio. Bene? Bene, mi sa che sto rispondendo ormai troppe cose come fa Beatrice, che una singola domanda la porta a fare tre pagine, quindi cerchiamo di essere magari più brevi. Allora, Dante evidentemente dopo essersi domandato o aver domandato a Beatrice attraverso Dio perché Dio creò gli angeli, forse aveva pensato ma che faceva Dio prima? E allora Beatrice aveva chiarito che non è che Dio prima stessi inattivo perché semplicemente non esiste un prima, la creazione del cristallino. E adesso al verso 22 un'altra domanda implicita di Dante viene risposta da Beatrice. Forme e materia, congiunte e purette, usciro ad esser che non avvia fallo, come d'arco tricordo tre saette. Cioè Dante forse si è domandato diciamo che altre cose creò Dio insieme agli angeli o gli angeli precedettero come creature altre cose perché di questo appunto diciamo si discuteva e qui Dante prende un po' le distanze da Tommaso mettendo in bocca di Beatrice che tre cose furono create allo stesso tempo inizialmente. La forma, la materia, purette, come dice dopo, quindi la forma pura, la materia pura e forma e materie congiunte. Cioè la forma pura sarebbero appunto gli angeli di cui sta parlando che come sapete non hanno corpo. La materia pura è la materia prima di cui sono fatti per esempio i pianeti e forme e materie congiunte sono come vedremo tra qualche verso i cieli che sono in mezzo tra la pura materia della Terra e il puro atto o la pura forma degli angeli. Allora la forma, la materia e l'unione tra forma e materia uscirono ad essere cioè nacquero, cominciarono la loro esistenza senza fallo, cioè senza errore come tre frecce da un arco tricordo cioè come uno stesso arco lancia tre frecce allo stesso tempo e al verso 25 continua Beatrice e come in vetro, in ambra o in cristallo raggio resplende sì che dal venire all'essere tutto non è intervallo così il triforme effetto del suo sire nell'essere suo raggio insieme tutto senza distinzione in esordire. Forse Dante si sta domandando ma ci fu una differenza anche minima tra la creazione della forma e della materia e Beatrice per dire che logicamente ci fu ma è impercettibile dal punto di vista temporale dall'immagine molto efficace di un raggio che entra in un vetro o in un cristallo o nell'ambra e con la stessa quasi immediatezza con cui il raggio risplende cioè tocca questa superficie e illumina tutto quindi senza cioè chiaramente uno è origine dell'altro ma non si può percepire una differenza temporale così l'effetto triplice del Signore nel suo essere irradiò tutto tutti e tre senza distinzione nell'esordire senza che si potesse vedere una differenza temporale tra l'esistenza della materia la forma e la forma e la materia miste e immediatamente al verso 31 con creato fu ordine e costrutto alle sostanze e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu prodotto pura potenza tenne la parte ima nel mezzo strinse potenza con atto tal vime che giammai non si divima allora con creato alle sostanze cioè a queste creature furono l'ordine nel quale furono stabiliti e costrutto cioè struttura quindi furono non è che Dio creò gli angeli, i cieli e la terra e poi decise dove metterli in rapporto gli uni con gli altri ma li creò già con l'ordine e la struttura che hanno ora qui è interessante il fatto che come notano i commentatori antichi il termine costrutto l'ultimo termine del verso 31 ha un significato di costruzione grammaticale proprio di frase sintattica e quindi è come se diciamo Dante stesse presentando un'immagine in cui Dio quando sta creando l'universo come un testo non solo crea le parole ma le mette già in un costrutto in ordine logico vero? e quelle furono cima in che puro atto fu prodotto cioè quelle che sono puro atto quello che prima aveva nominato come pura forma ma forme purette furono la cima nel mondo in cui fu prodotto il puro atto cioè nell'empireo ci fu la pura forma che appunto sono appunto gli angeli quindi Dio già creando gli angeli li ubicò nell'alto nella cima del mondo pura potenza tenne la parte Ima cioè la potenza pura cioè quello che è materia pura la Terra si ubicò nella parte infima più bassa della creazione vi ricordate che secondo il sistema di Ptolomeo che Dante segue qua la Terra è il centro dell'universo attorno al quale girano gli altri pianeti e quindi è il posto più basso guardando dall'alto dell'empireo vero? nel mezzo strinse potenza con atto tal vime che giammai non si divima cioè nel mezzo tra la Terra e l'empireo dove sono gli angeli e strinse Dio cioè unì così fortemente potenza e atto cioè forma e materia con un tale vincolo che non si svincola mai cioè i cieli che saranno sempre forma e materia insieme e ora Dante probabilmente si starà domandando se ci fu se ci fu un tempo in mezzo tra la creazione degli angeli e quello della creazione dei cieli e Dante probabilmente lo sta domandando tacitamente perché Ieronimo come viene nominato qui San Girolamo aveva scritto che erano passati molti secoli tra la creazione degli angeli e la creazione del resto dell'universo e cioè dei cieli ma qui Dante con l'autorevolezza che gli dà il fatto di essere stato lì in paradiso e aver ascoltato direttamente da Beatrice che trasmette ovviamente la verità divina osa come farà in tutto il canto opporsi a quello delle autorità del mondo e quindi al verso 37 Beatrice continua Ieronimo vi scrisse lungo tratto di secoli degli angeli creati anziché l'altro mondo fosse fatto cioè Girolamo scrisse su questa cosa che erano passati era passato un lungo tragitto di secoli tra la creazione degli angeli cioè prima che fosse fatto il resto del mondo ma dice Beatrice al verso 40 ma questo vero è scritto in molti lati dagli scrittori dello Sferito Santo e tu te ne avvedrai sebbene agguati ma questa verità che io ti sto dicendo e cioè che angeli cieli e terra furono creati immediatamente contemporaneamente come tre frecce che vengono lanciate dallo stesso arco è una verità che è scritta in molte parti della Bibbia cioè scritto attraverso gli scrittori che fecero da mezzo dello Spirito Santo per esempio Ecclesiaste e Genesi e tu te ne accorgerai se guardi bene questo è importante perché come vi dicevo Beatrice sta dando un'indicazione che nell'invettiva che poi diciamo lancerà contro i professori universitari che pur di apparire di far bella figura si allontanano dalle scritture qui Beatrice sta dicendo che un singolo uomo è Dante che sta comunque come voi sapete rappresentando l'umanità non ha bisogno di credere a quello che dice San Girolamo perché c'è la Bibbia che lo dice e se si legge la Bibbia con umiltà si deve accettare questo che è una vi dicevo tornerà Beatrice nella seconda parte del canto perché questo è forse il canto in cui Beatrice più si arrabbia contro coloro che seguono filosofie che contrastano le scritture e si arrabbia di brutto come forse avrete sentito usando addirittura delle parole abbastanza inattese nel nono cielo ma poi aggiunge cioè che non solo attraverso la lettura umile delle scritture si può capire questo ma che anche la filosofia permette di comprenderlo al verso 43 e anche la ragione il vede alquanto che non concederebbe che i motori senza sua perfezione fossero potanto c'è anche la ragione cioè Aristotele che è sempre il maestro del sapere come lo chiama Dante anche nel limbo quando lo vede lo vede almeno parzialmente alquanto già che la ragione la filosofia diciamo razionale non ammetterebbe che i motori cioè l'intelligenza perfette che sono gli angeli che sono puro atto fossero per un po' di tempo senza la loro perfezione cioè infatti quello che spiega Aristotele è che quello che è forma pura e cioè che è atto puro lo è quando sta esercitando la propria funzione e quindi se ammettiamo come ha detto prima Beatrice che gli angeli sono perfetti cioè perfetti nel senso anche latino di completi realizzati in ogni loro potenza debbono per forza stare esercitando la loro funzione che è appunto quella di muovere i cieli quindi non è razionalmente ammissibile che gli angeli stettero senza realizzarsi quindi senza avere i cieli sui quali esercitano la propria funzione perché sarebbe in contraddizione con la loro perfezione in atto va bene allora Beatrice qui tira un po' le somme di quello che ha spiegato per aiutare anche noi lettori a cogliere che cosa si era domandata Dante al verso 46 or sai tu dove e quando questi amori furono creati e come sì che spenti nel tuo disio già son tre ardori cioè hai già capito dove cioè in che ordine sono stati messi quando cioè chi prima chi dopo anzi tutti insieme e come cioè non per acquistare maggior felicità ma per dare generosamente al proprio raggio la consenna furono creati gli angeli questi amori no così che sono già spenti tre incendi del tuo desiderio ho già appagato qui si può vedere la comune etimologia del verbo appagare in spagnolo e in italiano ovvero sono appagati i fuochi del tuo desiderio il tuo desiderio di conoscere ma evidentemente Dante ha ancora più desideri perché come vedremo Beatrice deve continuare a rispondere alle sue domande mentali verso 49 ne giugnerie si numerando al venti si tosto come degli angeli parte turbo il soggetto di vostri alimenti allora e non si arriverebbe contando uno due tre quattro al venti così velocemente come una parte degli angeli cadendo turbo la crosta terrestre cioè il soggetto dove si appoggiano i vostri alimenti secondo diciamo decide filologicamente Giorgio Petrocchi il grande filologo che ha fissato diciamo il testo di Dante che continua ad essere quello di riferimento nonostante si siano succedute altre edizioni critiche dopo di lui Petrocchi decide che qui dice alimenti cioè la terra come quello che nutre voi sarebbe l'idea secondo altri qui invece sta dicendo elementi visto che stava parlando appunto di quello che è stato creato comunque di quello che non abbiamo dubbi è che sta parlando della caduta di Lucifero che alterò la terra perché forse vi ricordate l'abbiamo letto diciamo nel canto ultimo dell'inferno nel 34 quando Dante e Virgilio stanno uscendo diciamo sono arrivati al centro della terra e tenendosi appunto dai peli di Lucifero oltrepassano il centro di gravità Dante si confonde non capisce come mai quello che prima stava in piedi ora è capovolto come da sera si fa mattina subito come insomma gli sembra di star tornando nell'inferno non so se vi ricordate questo questo grande dubbio che ha Dante quando tenendosi dai peli di Lucifero insieme a Virgilio a un certo punto dalla discesa comincia a salire e dice ma che successo e Virgilio gli spiega che appunto ora sono nell'emisfero sud e approfitta insomma di questo dubbio di Dante per dare questa magnifica spiegazione che riguarda come si formò l'inferno e racconta come Lucifero essendosi ribellato contro il creatore nonostante fosse la creatura più bella cadde dice Virgilio da questa parte e lo sta dicendo nell'emisfero sud e le terre che prima erano distribuite in modo regolare in tutta la superficie terrestre vedendolo arrivare si spaventarono e si nascosero sotto l'acqua per cui appunto l'emisfero sud diventò l'emisfero delle acque e come ficandosi nel centro che è il centro dell'universo le terre che lui toccò si aprirono per ribrezzo di lui formando questo imbuto che nell'emisfero nord è l'inferno le terre diciamo che furono spostate da questo abisso in un movimento orogenico che si trasmise dall'emisfero nord all'emisfero sud formarono nell'emisfero sud la montagna del purgatorio unica terra emersa beh quindi qua diciamo siccome Beatrice sta dando per scontato che Dante ha già sentito quella lezione da parte di Virgilio e non l'ha dimenticata perché l'ha sentita pochi giorni prima non come noi sta dando per scontato quando dice che non passarono diciamo nemmeno i secondi che ci vogliono per contare fino al 20 che dalla creazione degli angeli una parte rovinò la terra sta molto sinteticamente facendo riferimento alla ribellione degli angeli e quindi è possibile che la domanda di Dante sia stata quanto ci mise Lucifero a ribellarsi contro Dio e cioè come continuò la storia va bene ho capito quando dove è come furono cioè la ribellione di Lucifero quando fu e che successe a partire da questa allora Beatrice dice subito non potremmo contare fino a 20 per calcolare il tempo che passò finché una parte di questi angeli creati turbò l'ordine del mondo questo è interessante no? perché Beatrice sta stabilendo fin dall'inizio di questa sua risposta il legame tra quello che accadde all'inizio della creazione e le conseguenze che questo ebbe per il mondo cioè la terra questo infimo luogo di pura materia si alterò per colpa del difetto del puro atto che erano gli angeli e quindi Beatrice si è appena riferita a quel gruppo di angeli che seguì Lucifero e al verso 52 chiarisce che cosa è successo con l'altra parte degli angeli che dobbiamo sopporre per fortuna era la maggioranza l'altra rimase e cominciò quest'arte che tu discerni con tanto diletto che mai da circuire non si riparte cioè l'altra parte cioè gli angeli che furono fedeli a Dio cominciò quest'arte che tu stai vedendo cioè quello di girare come fuochi accesi attorno al punto luminosissimo che è Dio con un così alto piacere che non finirà mai di girare attorno quindi come Dante sta vedendo gli angeli risultato della fedeltà che quegli angeli che sono rimasti in paradiso ebbero nei confronti di Dio è un girare di desiderio come abbiamo visto la settimana scorsa che evidentemente da questa spiegazione veniamo a capire non c'era inizialmente c'era inizialmente questa funzione degli angeli che muovevano i cieli ma questo girare di amore e intelletto attorno al punto luminosissimo che è Dio deriva dalla loro fedelità dopo la ribellione ora spiegherà Beatrice come è successo questo al verso 55 chiarisce principio del cadere fu il maledetto superbir di colui che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto cioè l'inizio il principio della caduta fu la superbia maledetta di Lucifero cioè colui che tu hai visto quando hai oltrepassato il centro di gravità oppresso da tutti i gravi da tutti i pesi del mondo perché come abbiamo detto tante volte il centro della terra coincide con il centro di gravità il che simboleggia il centro di attrazione che diciamo induce gli umani ad abbandonare l'elevazione spirituale ed abbracciare i beni materiali della terra e al verso 58 spiega come mai sono stati diciamo potenziati gli angeli che sono stati invece fedeli quelli che vedi qui furono modesti a riconoscerse della bontate che li avea fatti a tanto intender presti perché le viste loro furono essaltate con grazia illuminante e con loro merto sì che hanno ferma e piena volontate cioè quelli che tu stai vedendo ora qui in paradiso furono modesti cioè furono umili e misurati nel riconoscere la propria esistenza cioè sé come dipendente dalla bontà cioè di Dio che li aveva creati così intensamente intelligenti cioè presti a tanto intendere cioè la parte che vedi qui la differenza che ha avuto con gli angeli ribelli mentre gli altri sono stati superbi quindi in qualche modo hanno inteso la propria esistenza come autonoma indipendente indipendente dalla volontà e dalla bontà di Dio questi sono stati invece modesti nel riconoscere riconoscere nel nel doppio senso di conoscere bene ma anche di gratitudine verso la bontà di Dio che li aveva li aveva creati con una così alta capacità di partecipare all'intelletto divino per cui dice Beatrice al verso 61 per cui le loro viste furono essaltate quindi rese più intense più potenti con la grazia illuminante e con il proprio merito perché non seguirono la ribellione così che ora hanno una volontà ferma e piena che coincide senza alcuna diciamo imperfezione con la volontà divina cioè quello che è evidente qua è che la volontà degli angeli prima della ribellione consentiva la libertà di decidere se seguire Dio o ribellarsi perché altrimenti non ci sarebbe stata possibilità di ribellione mentre invece gli angeli che sono stati umili non si sono ribellati contro Dio sono stati sollevati a un grado di libertà superiore che è quello che hanno anche i salvati umani in cui non debbono nemmeno scegliere tra il bene e il male come se il premio che Dio diede a quelli che sono stati modesti e che hanno diciamo riconosciuto il proprio essere dall'essere divino fosse stato questo innalzamento della volontà che coincide con la volontà di Dio quindi non vi si allontana si capisce e ora al verso 64 Beatrice contundente collega queste affermazioni con quell'ordine che nel canto scorso aveva sottolineato anche se era già stato detto in altri canti secondo cui la visione di Dio precede l'amore che a sua volta precede la felicità vi ricordate che nel canto scorso Beatrice aveva chiarito che il grado di ardore che Dante vede manifestarsi attraverso la luce di ogni anima dipende dal grado di piacere che deriva dall'amore e che l'amore deriva dalla contemplazione perché il bene una volta visto e riconosciuto come tale desta l'amore e qui Beatrice integra quest'idea con la grazia illuminante che dispone alla visione e cioè aggiunge una parte precedente questo ciclo cui si è riferito prima al verso 64 e non voglio che dubbi ma sia certo che ricever la grazia è meritorio secondo che l'affetto l'è aperto cioè e voglio che tu sappia indubbiamente che il grado con cui la grazia illumina da cui dipende aggiungo io la potenza della visione di Dio è meritevole perché dipende da quanto si apre l'affetto accoglierla la grazia cioè Dio si dà infinitamente con la sua grazia in un modo generoso e possiamo dire democratico a tutti gli esseri la offre in ugual modo ma non tutti gli angeli come non tutti gli umani perché di questo avevamo già parlato in precedenza si dispongono con l'affetto a ricevere quella grazia dalla diversa apertura affettiva verso la grazia dipende l'intensità della visione divina e quindi l'ardore di carità e quindi la felicità e quindi il diverso grado di beatitudine che sappiamo ormai dal terzo canto del paradiso differenzia le anime perciò Dante le ha dovute vedere in cieli diversi ma ora veniamo a sapere che indipendentemente dalla gerarchia degli angeli che Beatrice ha esposto nel canto 28 ogni angelo è comunque un individuo che a seconda di quanto si è aperto a ricevere la grazia illuminante vede diversamente in Dio quindi arde di amore diversamente e quindi ha un grado diverso di beatitudine vedo che c'è qualcosa sul chat e no ma e Claudia ti ringrazio però possiamo vederlo dopo la pausa era soltanto per non dimenticare di farti una domanda sì poi torniamo ricordamelo per favore grazie sì è una domanda interessante ma ci devo pensare quindi durante la pausa cerco di vedere se trovo una risposta soddisfacente allora al verso 67 Beatrice dice vabbè con questo potresti essere soddisfatto però insomma coglierò l'occasione per polemizzare un po' con quelli del mondo che vanno in giro a dire chiacchiere no allora dice al verso 67 o mai dintorno a questo consistorio puoi contemplare assai se le parole mie sono ripolte senza altro aiutorio cioè ormai per quello che ti ho detto finora per quel che riguarda questo consistorio cioè questa comunità degli angeli tu puoi vedere sufficientemente assai se hai capito bene hai accolto bene le mie parole senza un altro aiuto ma verso 70 ma perché in terra per le vostre scuole si legge che l'angelica natura è tal che intende si ricorde vole ancora dirò perché tu veggi pure la verità che laggiù si confonde equivocando in si fatta lettura cioè Beatrice ha detto questo che se ho spiegato dovrebbe essere sufficiente ma siccome nelle vostre università del mondo si legge cioè si insegna no? perché leggere il verbo leggere come anche lettura corrispondeva a far lezione eh? questa è la cosa grave non solo diciamo la lettura storta ma soprattutto la divulgazione di idee errone vero? allora siccome nelle vostre università si insegna che gli angeli cioè la natura angelica è tale che intende cioè capisce con l'intelletto e si ricorda quindi ha non solo intelletto ma memoria e vuole quindi ha volontà parlerò ancora finché tu veda pura la verità che laggiù nel mondo si confonde leggendo in un modo storpo alterando i termini allora contro chi sta polemizzando Beatrice niente di meno che con Tommaso perché eh e qua è interessante perché Dante tra gli altri segue Sigeri di Bravante questo averroista che abbiamo visto tra gli spiriti saggi nella stessa corona e anzi accanto appunto a San Tommaso ormai riconciliati in paradiso nel cielo del sole perché in realtà chiaramente intelletto e volontà coincide con quello che Beatrice ha detto finora l'intelletto ce l'hanno chiaramente perché vedono direttamente in Dio e la volontà ce l'hanno perché altrimenti non avrebbero potuto parte di loro ribellarsi e parte di loro essere fedeli a Dio quello che è polemico qui è che abbiano memoria gli angeli che ricordino e ora Beatrice ci spiegherà perché al verso 76 queste sostanze poiché furgioconde della faccia di Dio non vuol serviso da essa da cui nulla si nasconde però non hanno vedere interciso da nuovo obietto e però non bisogna rememorar per concetto diviso queste sostanze cioè questi puri atti che sono gli angeli una volta che godettero direttamente della faccia di Dio cioè dopo la ribellione di una parte quando furono esaltati e cominciarono a vedere direttamente di Dio non vuol serviso da essa da cui nulla si nasconde cioè non allontanarono il loro sguardo chiaramente intellettuale da Dio per cui conoscono tutto sempre nessuna verità si nasconde a loro perché sono in contemplazione da quel momento fino a sempre perciò però verso 79 perciò non hanno il loro vedere cioè il loro capire interciso cioè diviso da nuovi obietti non è che si distraggono dalla visione divina nella quale vedono tutta la verità come facciamo noi umani che stiamo facendo una cosa poi qualche altro pensiero ci distrae e quindi poi dobbiamo recuperare con la memoria appunto che stavamo facendo a cosa stavo pensando gli angeli no perché vedono contemplano la verità in Dio costantemente perciò non hanno bisogno come dice al verso 80 Beatrice non hanno bisogno di rememorare cioè di ricordare a causa di un concetto diviso cioè a causa di una conoscenza che a un certo punto si è diversificata ok quindi dimostra così Beatrice in un modo abbastanza comprensibile anche razionalmente perché gli angeli memoria non hanno e al verso 82 inizia la polemica che poi diventa abbastanza violenta sì che laggiù non dormendo si sogna credendo e non credendo dice è vero ma nell'uno è più colpa e più vergogna cioè così che laggiù nel mondo si sogna senza dormire cioè si dicono cose deliranti credendo dire la verità e non credendo quindi per sbaglio per errore cioè credendo di dire la verità si dice una non verità ma anche mentendo cioè non credendo dice è vero ma ovviamente in uno degli atteggiamenti c'è più colpa e più vergogna che non nell'altro cioè è ovvio che mentire è più grave che sbagliare e tuttavia come vedremo dopo la pausa Beatrice qui si scaglierà pure contro coloro che sbagliano cioè non solo contro coloro che come è evidente per tutti noi vanno in giro a dire cose che sanno che non sono vere ma addirittura come dirà Beatrice contro coloro che ignorano la verità ma questa ignoranza non gli discolpa perché come dirà Beatrice ogni cristiano sa di avere le sacre scritture che può chiarire questi dubbi e quindi dopo la pausa visto che Beatrice diciamo diventa veramente violenta di malumore dal verso 85 e facciamo la pausa ora così non interrompiamo la sua indignazione va bene allora riprendiamo se siete d'accordo inizio dalla domanda che aveva fatto Beatrice durante la la prima parte mi ascoltate? oddio sì grazie perché evidentemente c'è qualche problema perché io non vi vedo ecco perché domandavo allora Beatrice aveva domandato se possiamo pensare che gli angeli ribelli abbiano avuto la missione di mettere alla prova la libertà degli esseri umani beh intanto io diciamo non non sarei così diciamo veloce nell'associare gli angeli agli umani evidentemente diciamo quello che è in dubbio da questa spiegazione che ha dato Beatrice è che la ribellione degli angeli guidati da Lucifero fece ottenere una maggior gioia per gli angeli che sono stati invece fedeli e cioè c'è una sorta di parallelismo tra in questo senso tra la ribellione di Lucifero e diciamo l'atto di superbia di Adamo che fu una colpa a Felix no perché diede luogo alla stupenda incarnazione ma non direi diciamo che che la funzione degli angeli centri con la libertà degli esseri umani perché manca moltissimo perché appaiano sulla terra gli esseri umani mi sentite? Sì? Ah bene io non non vi vi ah bene io non vi vedo frizzati anche bene bene e quindi diciamo finora di esseri umani non abbiamo parlato sono gli angeli quelli che sono stati in qualche modo non dico messi alla prova dotati di libertà e quindi la libertà ovviamente implica questa possibilità di un uso abusivo di essa poi mi si domanda se è vero che Dante scrisse molto velocemente il paradiso in contrasto con l'inferno beh non direi perché non lo sappiamo con esattezza però il purgatorio stava già in circolazione nel 1315 il paradiso come voi sapete cominciò a circolare solo dopo la morte di Dante nel 1321 quindi non sappiamo esattamente quanto ci mise a scriverlo Alejandra domanda se il movimento nasce dopo la caduta quello che nasce dopo la caduta è il movimento degli angeli fedeli a Dio attorno al punto il movimento nell'universo nasce prima con gli angeli quando Dio crea allo stesso tempo anche il cristallino lì gli angeli appunto sono creati insieme alla loro funzione di motori dei cieli fisici e quindi il movimento in genere nasce prima quello che diciamo dopo la caduta ottengono gli angeli fedeli è questo circuire per desiderio attorno a Dio spero qualcuno mi dia segnali di vita per favore perché io vi vedo tutti frizzati e sono mi sento un po' bene grazie mille voi siete degli angeli veramente bene allora leggiamo dal canto dal verso scusate 85 è sempre Beatrice che parla che ha appena ricordato quelli che si sbagliano quelli che mentono ma che hanno in comune il fatto di sognare senza dormire e qui come vi dicevo un po' il tono di Beatrice diventa più aggressivo voi non andate giù per un sentiero filosofando tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza il suo pensiero cioè voi umani giù nel mondo non andate per lo stesso pensiero quando filosofate cioè qui la parola importante è un perché siccome la verità è una stavo dicendo che qui è importante il termine un perché siccome la verità è una il fatto di dire che filosofando vanno per diversi sentieri implica di suo insomma che la maggior parte di queste idee filosofiche sono sbagliate ma l'interessante di questa terzina è un'idea che svilupperà Beatrice anche più avanti ed è quella secondo cui quello che vi trasporta voi umani dice lei nel sentiero sbagliato e la volontà di apparire la voglia di far figura l'amor proprio e la volontà di dire qualcosa di originale per fare i fichi diremmo e al verso 88 Beatrice aggiunge e ancora questo quassù si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta cioè e anche questo cioè il fatto di lasciarsi portare dall'amor proprio e della volontà dell'apparenza quassù in cielo si tollera con meno disdegno di quello che suscita la subordinazione della scrittura alla filosofia o la volontà di torcere la scrittura cioè Beatrice dice c'è gente che va in giro a dire qualunque cosa pur di apparire ma quello che più dispiace a Dio è la subordinazione cioè la gente che legge la filosofia posponendo cioè subordinando le sacre scritture oppure storcendo il loro significato e continua al verso 91 non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace chi umilmente con essa s'accosta cioè il vi del verso 91 è laggiù nel mondo non si pensa la gente non pensa quanto sangue è costato seminare la verità nel mondo e quindi la scrittura che dice la verità e quanto piace a Dio coloro quanto piacciono a Dio coloro che si accostano cioè si avvicinano umilmente alla scrittura e qui al verso 94 Beatrice insiste e oddio mio non so che sta succedendo bene allora al verso 94 ti ascoltiamo benissimo stiamo qui tutti qui grazie io non vi vedo perciò mi sembra di star parlando nell'etere vuoto grazie allora Beatrice insiste sull'apparenza qua per apparire ciascun si ingegna e face sue invenzioni e quelle sono trascorse dai predicanti e il Vangelo si tace cioè per voglia di apparire la gente si ingegna si sforza e inventa delle cose fa delle invenzioni e poi peggio ancora quelle invenzioni sono divulgate trascorse dai predicanti e si dimentica la buona nuova si dimentica si dimentica il Vangelo uno per esempio adesso Beatrice dà un esempio di come la filosofia razionale si allontana da quello che dicono le scritture al verso 97 un dice che la luna si ritorse nella passione di Cristo e si interpose perché il lume del sol giù non si porse e mente che la luce si nascose da sé però agli spani all'indi come ai giudei tale eclissi rispose allora ce n'è uno per esempio c'è chi dice che la luna invertì la marcia quando ci fu la passione di Cristo e si interpose tra la terra e il sole quindi Beatrice sta polemizzando contro coloro che davano una spiegazione scientifica fisica all'eclisse che secondo le scritture ci fu quando morì Cristo e cioè dice che appunto perciò verso 99 il luce del sole non apparì giù nel mondo ma quell'uno mente cioè non dice la verità già che la luce si nascose da sola da sé perciò in tutto il mondo nella Spagna nell'India e a Gerusalemme ci fu quell'eclisse cioè Beatrice sta nominando tutto il mondo mettonimicamente a partire dagli estremi occidentale e orientale e quindi è appunto una polemica contro la volontà di spiegare fisicamente qualcosa di miracoloso perché appunto come spiega San Girolamo qui Dante segue lui il sole non volle illuminare la terra in mezzo a questo fattaccio questo dolore della crocifissione e al verso 103 con indignazione crescente Beatrice continua non a Fiorenza tanti lapi e bindi quante si fatte favole verranno in Pergamo si gridano quince e quindi cioè a Firenze non ci sono in questo momento tanti lapi e tanti bindi che sono diciamo i nomi diciamo affettuosi con cui si chiamavano con loro che si chiamavano Jacopo e Aldo Brandino che erano nomi molto molto frequenti a Firenze quindi non ci sono a Firenze così tante persone di questo nome quante ci sono queste favole queste corbellerie invenzioni assurde per anno che si gridano in Pergamo di qua e di là cosicché verso 106 sicché le pecorelle che non sanno tornano tornano dal Pasco pasciute di vento e non le scuse non vederlo danno così che cioè se i pastori vanno a predicare queste stupidate le pecore cioè il comune del greggio che sono ignoranti non sanno tornano dal Pasco gonfiate di vento cioè non alimentate veramente ma confuse piene di idee che non sono vere e qua appunto al verso 108 c'è quest'idea di Beatrice cui io accennavo prima e che appunto responsabilizza anche coloro che inconsapevolmente seguono queste idee perché lei dice e non le scusa non vederlo danno cioè non è una scusa il fatto che non si accorgono del danno che fanno queste menzogne e immediatamente appunto per giustificare responsabilità che sussiste nonostante l'ignoranza al verso 109 Beatrice torna a parlare del Vangelo cioè della vera predicazione non disse Cristo al suo primo convento andate predicate al mondo ciance ma diede lor verace fondamento e quel tanto sonò nelle sue guance sicchia pugnar per accender la fede dell'Evangelio feroscuro e ance Beatrice con un tono veramente crescente di insomma di rabbia dice Cristo non disse alla sua prima comunità cioè agli apostoli andate predicate chiacchiere al mondo ma diede a questi apostoli diede loro un fondamento vero cioè il Vangelo e quello cioè quel verace fondamento sonò così tanto nelle loro guance nelle loro bocche degli apostoli che loro fecero dell'Evangelio cioè del Vangelo vediamo se ora funziona questo allora credo che diciamo quando è caduto diciamo il collegamento eravamo alla terzina 109 111 e cioè stavo parafrasando Beatrice che dice a Dante che Cristo non disse agli apostoli andate a predicare qualunque cosa ma diede loro un fondamento verace che il Vangelo è che esso questo verace fondamento suonò nelle bocche degli apostoli così tanto che per far accendere la fede fecero scudo e lanci appunto del Vangelo che sta dicendo Beatrice tutto questo è legato a quello che ha affermato nel verso 108 cioè anche i più ignoranti hanno le sacre scritture quindi non non gli scusa il fatto di seguire diciamo le mancate verità dei predicatori quindi è un invito anche ai più umili a seguire il Vangelo e non lasciarsi sedurre da questi che vanno in giro a dire idee appariscenti che in realtà sono motivate dall'amor proprio e infatti con crescente tono anche insomma dal punto di vista dello stile sempre più comico nel senso dantesco al verso 115 aggiunge Beatrice ora si va con motti e con i scede a predicare e purché ben si rida gonfi il cappuccio e più non si richiede cioè ora la gente predica con battute e scherzi e gaff e purché si rida colui che sta predicando gonfia di vanita il cappuccio il cappuccio appunto cardinalizio è come al solito la la polemica di Dante e più non si richiede non importa se è vero quello che si dice è una polemica davvero interessante quella di Beatrice contro coloro che fanno i simpatici anziché dire delle verità vero? ma e ora diventa davvero terribile perché Beatrice sviluppa questa metafora del cappuccio e si riferisce al becchetto che è diciamo l'estremo superiore del cappuccio e rende questa metafora molto visibile al verso centodiciotto ma tale uccell nel becchetto sannida che se il vulgo il vedesse vedrebbe la perdonanza di quel confida cioè ma nella punta del cappuccio è nascosto fa il nido un tale uccello chiaramente è diciamo un'allusione al diavolo che se il vulgo lo vedesse vedrebbe di quale tipo di perdono si sta fidando cioè di un perdono chiaramente fasullo venduto non vero non proveniente da Dio bensì dal diavolo per cui tanta stoltezza in terra crebbe che senza prova ad alcun testimonio ad ogni promessione cioè per cui è cresciuta così tanto la stoltizia nella terra che ognuno correrebbe a chiedere promesse senza nessun testimonio sacramentale cioè chiaramente qui Dante in bocca di Beatrice sta mettendo la terribile critica alla vendita delle indulgenze alla flessibilizzazione diciamo dell'etica da parte della chiesa corrotta e al verso 124 Beatrice approfitta per fare una critica all'ordine Antonino e lo fa con parole come vi dicevo prima davvero insomma sorprendenti nella sua bella bocca nel bel nono cielo dove si trova insieme a Dante verso 124 di questo ingrassa il porco Sant'Antonio e altri assai che sono ancor più porci pagando di moneta senza conio cioè qui c'è un'allusione all'immagine con la quale Sant'Antonio il monaco egiziano del terzo secolo che iconograficamente ha l'immagine con un maiale accanto simbolo del diavolo sconfitto che lo rende appunto patrono degli animali domestici e quindi in riferimento a questa immagine dice Beatrice di questo cioè del fatto che la gente ci crede ad ogni promessa di perdono Sant'Antonio riesce ad alimentare il porco a ingrassarlo e ancora e altri ancora ma questa volta sono diciamo monaci che sono più porci ancora del porco che è nell'immagine di Sant'Antonio pagando con una moneta che non ha conio cioè con moneta falsa che sarebbero appunto le indulgenze insomma finte cui si era riferito poco prima vi ricordate lo stesso San Pietro quando aveva esclamato arrossendo di indignazione che lui e i primi insomma papi martiri non avevano sparso il sangue per arricchire d'oro successori vero? Anche lì c'era stata un'allusione alle vendite dell'indulgenze e a questi favori per i quali per sancire i quali era era usata l'immagine del proprio Pietro ma Beatrice al verso 127 è come se umanamente riconoscesse che si è lasciata andare dall'ira e quindi diceva beh eravamo e quindi continua a parlare degli angeli che era il discorso precedente la sua indignazione vero? Ma perché siamo digressi assai ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada sì che la via col tempo si raccorci ma siccome abbiamo fatto una digressione lunga ritorno ormai con gli occhi gli occhi chiaramente della mente sulla dritta strada cioè quello di cui stavamo parlando prima in modo che si raccorci la via col tempo questo è interessante questo verso 129 perché ci ricorda in qualche modo che manca poco per la fine del viaggio nel paradiso e quindi ci saranno come vedremo nelle prossime settimane altre indicazioni sul fatto che non bisogna perdere tempo perché il viaggio sta per finire quindi Dante deve esaurire la sua visione del paradiso al verso 130 torna allora Beatrice al discorso sugli angeli ora si oltre si ingrade in numero che mai non fulo quella né concetto mortal che tanto vada e se tu guardi quel che si rivela per Daniel vedrai che in sue migliaia determinato numero si cela evidentemente Dante si stava domandando quanti fossero gli angeli perché aveva visto che c'erano tantissimi che lui vedeva come scintille che uscivano da ferro bollente attorno al punto che è Dio e Beatrice risponde perché il numero degli angeli era appunto un problema visto che i filosofi assegnavano un angelo a ogni motore e i cieli erano nove mentre invece alcuni altri dicevano che fossero infiniti e qui Beatrice non a caso citando il profeta Daniele quindi facendo lei in prima persona quello che dice che dobbiamo fare noi seguire le scritture afferma che questa natura angelica ingrata così oltre il numero cioè si va aumentando il numero di grado in grado in un numero finito ma talmente grande che non ci fu mai lo quella cioè lingua né concetto mortale cioè né pensiero che potesse andare così in là quindi non un numero infinito bensì finito ma incomprensibile a noi mortali e dice a Dante se tu guardi bene quello che si rivela attraverso il profeta Daniele vedrai che nelle sue migliaia perché conta di aver visto in sogno gli angeli decine di centinaia di migliaia di angeli vedrai che si nasconde cioè si cela un numero determinato di angeli non infinito e al verso 136 in essa si riceve quanti sono gli splendori a chi si appaia cioè la luce divina la prima luce che irradia in tutta questa natura angelica viene ricepita cioè ricevuta in così tanti modi diversi quanti sono gli splendori con cui si abbina cioè Dio dà la sua luce in modo uniforme ma così come vediamo che nel mondo le anime degli umani si aprono in modo diverso verso questa grazia anche in questo allora stavo dicendo che l'ardore divino sebbene si radi uniformemente da Dio viene ricepita ricepito diversamente da ogni angelo onde verso 139 onde però che ha l'atto che concepe segue l'affetto d'amara la dolcezza diversamente fervi per cui visto che l'affetto cioè l'ardore di amore segue l'atto di concepire di questo avevamo parlato appunto la settimana scorsa il fatto che la visione precede l'ardore la dolcezza ad amare fervetepa cioè arde ferventemente o è più tiepida diversamente in ogni angelo e al verso 142 conclude Beatrice ricordando la generosità infinita dell'amor di Dio che si diede nella molteplicità della creazione come aveva detto all'inizio del suo discorso vedi l'eccelso mai e la larghezza dell'eterno valore poscia che tanti speculi fatti sai in che si spezza uno manendo in sé come davanti cioè ormai puoi vedere la generosità eccelsa dell'amore di Dio dell'eterno valore visto che si è spezzato in così tanti specchi rimanendo in sé stesso uno come era prima della creazione ci siete ancora perché io vi vedo sorgellati sì sì siamo qui ottimo allora vediamo se riusciamo a leggerlo tutto di seguito sperando che non cade il collegamento vi ringrazio dell'attenzione se non riusciamo a risentirci alla fine del canto vi saluto fino alla settimana prossima grazie a voi quando ambedue li figli di latona coperti del montone della libra fanno dell'orizzonte insieme zona quant'è dal punto che il cenito in libra infinché l'uno e l'altro da quel cinto cambiando l'emisperio si di libra tanto col volto di riso dipinto si tacque beatrice riguardando fiso nel punto che m'avea vinto poi cominciò io dico e non dimando quel che tu voglio dir perché io l'ho visto l'avesse appunta ogni uve ogni quando non per avere a sé di bene acquisto che esser non può ma perché suo splendore potesse risplendendo dir subsisto in sua eternità di tempo fore for d'ogni altro comprender come piacque sapersi nuovi amor l'eterno amore né prima quasi torpente si giacque che né prima né poscia procedette lo discurre di dio sovra quest' acque forme materia congiunte e purette uscirò ad esser che non avvia fallo come d'arco tricordo tre saette e come in vetro in ambra o in cristallo ragio resplende sì che dal venire all'esser tutto non è intervallo così il triforme effetto del suo sire nell'esser suo ragio insieme tutto senza distinzioni né sordire con creato fu ordine costrutto alle sostanze quelle furoncima nel mondo in che puro atto fu prodotto pura potenza tenne la parte ima nel mezzo strinse potenza con atto tal vime che giammai non si divima ieronimo vi scrisse lungo tratto di secoli degli angeli creati anzi che l'altro mondo fosse fatto ma questo vero è scritto in molti lati dagli scrittori dello spirito santo e tutte navvedrai sebbene agguati e anche la ragione il vede alquanto che non concederebbe che moturi senza sua perfezione fossero cotanto or sai tu dove e quando questi amori furon creati e come sicché spenti nel tuo odisio già sono tre ardoi né giugnerie si numerando al venti si tosto come degli angeli parte turbò il soggetto di vostri alimenti l'altra rimase e comincia quest'arte che tu discerni con tanto diletto che mai da circuire non si diparte principio del cadere fu il maledetto super bir di colui che tu vedesti da tutti i pesi dal mondo costretto quelli che vedi qui furon modesti a riconoscerse dalla montate che li avea fatti a tanto intender presti perché le viste lor furo e saltate con grazia illuminante con lor merto si chiano ferma e piena volontate e non voglio che dubbi ma sia certo che ricever la grazia è meritorio secondo che l'affetto l'è aperto o mai d'intorno a questo consistorio puoi contemplare assai se le parole mie son ricolte senza alcun aiutorio ma perché in terra per le vostre scuole si legge che l'angelica natura è tal che intende si ricorde e vuole ancor dirò perché tu veggi pure la verità che laggiù si confonde equivocando insifatta lettura queste sostanze poiché furgioconde della faccia di dio non vuol serviso da essa da cui nulla si nasconde però non hanno vedere interciso da nuovo obietto e però non bisogna rememorar per concetto diviso sì che laggiù non dormendo si sogna credendo e non credendo dicere vero ma nell'uno è più colpa e più vergogna voi non andate giù per un sentiero filosofando tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza il suo pensiero e ancor questo quassù si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace chi umilmente con essa s'accosta per apparere ciascun si ingegna e facce sue invenzioni e quelle sono trascorse dai predicanti e il Vangelio si tace un dice che la luna si ritorse nella passione di Cristo e si interpose perché il lume del sol giù non si forse e mente che la luce si nascose da sé però agli spani all'indi come ai giudei tale eclisse rispose non a fiorenza tanti lapi e bindi quante si fatte favole per anno in pergamo si gridano quinci e quindi sì che le pecorelle che non sanno tornano del pasco pasciute di vento e non le scusa non vederlo danno non disse Cristo al suo primo convento andate predicate al mondo ciance ma diede lor verace fondamento e quel tanto sono nelle sue guance si chiapugnare per accendere la fede dell'Evangelio feroscudo e lance or si va con mocchie con i scede a predicare e purché ben si rida gonfie il cappuccio e più non si richiede ma tali uccelli nel becchetto sannida che se il vulgo il vedesse vederebbe la perdonanza di che si confida per cui tanta stoltezza in terra crebbe che senza prova ad alcun testimonio ad ogni promession si correrebbe di questo ingrassa il porco Sant'Antonio e altri assai che sono ancor più porci pagando di moneta senza conio ma perché siamo digressi assai ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada sì che la via col tempo si raccorci questa natura si oltre si ingrada in numero che mai non fu lo quella né concetto mortal che tanto vada e se tu guardi quel che si rivela per Daniel vedrai che in sua migliaia determinato numero si cela la prima luce che tutta la raia per tanti modi in essa si recebe quanti sogli splendori a chi s'appaia onde però che all'atto che concepe segue l'affetto da mar la dolcezza diversamente in essa ferve e tebe vedi l'eccelso mai e la larghezza dell'eterno valore pocia che tanti speculi fatti sa in che si spezza uno manendo in sé come davanti grazie dell'attenzione e della pazienza con il collegamento ci vediamo la settimana prossima arrivederci a